Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi vi parlo della mia ultima lettura terminata. Si tratta di un libro in cui mi sono imbattuta in libreria di un autore che ho sentito moltissimo parlare in rete, molto molto discusso, soprattutto dalla critica, perché spesso mi sono ritrovata a leggere di lui opinioni che lo definivano un autore invadente nelle sue opere, un autore che tende a non mettersi da parte e ad essere troppo presente in mezzo alla storia, di non dare il giusto spazio ai protagonisti delle storie che ci va a raccontare. Lui è molto famoso per un romanzo in particolare che è l'Avversario, avrete capito che sto parlando di Emmanuel Carrère, Io però non mi sono sentita di partire da quel romanzo, ma quando ho letto in libreria la quarta di copertina di questo libro, pur tremandomi le gambe di fronte a questa storia, ho deciso di leggere lo stesso perché proprio avevo un richiamo da parte di questo libro e sono assolutamente contenta di averlo fatto perché pur essendo stata una lettura veramente dura, veramente veramente difficoltosa da portare a termine, pur essendo solo 236 pagine, le ho dovute dosare, centellinare a tratti perché dal punto di vista emotivo è un romanzo veramente che sconquassa l'anima, ma è uno dei romanzi più belli che io abbia mai letto e quindi io già di per sé sono una persona che nel mio canale faccio recensioni singole, ma mai come in questo caso questo libro merita il giusto spazio, un video tutto suo perché ci sarebbe davvero tanto da dire su questo libro e spero di riuscire in pochi minuti a concentrare tutto quello che penso, tutto quello che questo libro ha scaturito in me. Si tratta di Vite che non sono la mia di Emmanuel Carrère, edito Einaudi. Allora, l'autore ci racconta un pezzo della sua vita, ma decide di farlo attraverso storie di altre persone, storie di altre persone che comunque alla fine si sono mescolate alla sua di storia e lui non può fare a meno che portarci a fare delle riflessioni profonde, delle riflessioni sulla vita, sull'esistenza, su quello che siamo di fronte al mondo, di fronte alla natura, di fronte a qualcosa di molto più grande di noi. Emmanuel Carrère si trovava nel 2004 in viaggio per le vacanze di Natale con la compagna Elen e i figli in Sri Lanka ed erano una coppia abbastanza in crisi in quel periodo, una coppia che stava discutendo proprio in quei giorni dell'eventualità di allontanarsi, di separarsi, ma all'improvviso una mattina qualcosa di estremo, qualcosa di talmente forte in cui l'uomo può farci ben poco, si è abbattuto sulla loro vita. Loro ne sono stati solo testimoni, fortunatamente non sono stati colpiti da ciò che è accaduto, ma erano lì, si trovavano in quel luogo e hanno visto con i loro occhi ciò che ha significato per la grande parte della gente che ne è stata colpita in prima persona, ossia lo tsunami che si è abbattuto nel 2004 sulle coste del Pacifico, devastando tutto col suo passaggio. Sono stati appunto testimoni perché loro non si trovavano in spiaggia in quel momento, per fortuna, ma a farne le conseguenze in prima persona è stata principalmente una coppia di amici loro francesi con i quali avevano stretto una grande amicizia lì in viaggio, che in quella giornata hanno perso la loro figlia, Juliette, che aveva solo quattro anni e che è stata completamente trasportata dall'onda e il suo corpicino è stato disperso. A quel punto Hélène, che è una giornalista, comincia insieme al padre di questa bambina, Juliette, a cercare questo corpo in tutti gli ospedali e a cercare di ritrovarlo, di restituirle quantomeno una dignità minima e poterla riportare in patria, riportarla in Francia. Da lì questa coppia ne uscirà più forte. Hélène e Emmanuel Carrère si risalderanno l'uno nell'altro perché Carrère si interrogerà su quelli che sono alla fine i reali problemi, in cui spesso l'uomo inciampa alle volte su problemi che sono abbastanza futili, che invece in quel momento si ritengono essere insormontabili, ma la natura è come se ci fermasse di botto e ci facesse capire che esiste qualcosa di molto più forte, di molto più potente, a cui l'uomo non può in quel caso assolutamente mettere la sua mano. Così ritornano, ritornano in Francia e la loro vita cerca in qualche modo di continuare però insieme. Ma di lì a poco vengono a sapere di un'altra notizia, un altro evento catastrofico che non sarà di tipo naturale ma sarà dovuto alla malattia, ossia la sorella di Hélène ha una ricaduta di una malattia che l'aveva già colpita da giovane rendendo la zoppa, le è tornato il cancro. Juliette si chiama anche così, anche lei si chiama Juliette, ed è uno strano caso, una strana coincidenza che fa accendere un lume nell'autore che gli fa capire che lui è testimone di due storie drammatiche, fortissime, ma che vanno raccontate, sono molto importanti, sono molto importanti per lui in prima persona, per la sua stessa esistenza, perché lui attraverso quelle storie si interrogerà di sé, della sua anima, della sua personalità. E quello che è accaduto a me, ma che sono certa capita a tutti i lettori che affronteranno questo libro, è quello di mettersi in discussione insieme all'autore. Questo libro vi coinvolgerà, vi renderà in prima persona partecipi di quelle riflessioni, di quelle storie, le storie delle due Juliette diventeranno le vostre storie, e in un certo senso rimpasterete anche voi la vostra anima e vi farete delle domande. È inevitabile che ciò accada. Questo è duro e doloroso, ma è un libro che ha una potenza unica, un libro che è difficile trovare così, sinceramente. Per questo io l'ho definito il più bello che io abbia mai letto finora nella mia vita, ne sono assolutamente certa di questo. Mi ha sconquassato, ma mi ha riassestato nello stesso tempo. Dunque cosa accade? Accade che Juliette, la sorella di Hélène, ha questa ricaduta, ha il cancro nuovamente. Lei ha una famiglia, un marito, tre figlie piccole, che adora con tutta la sua anima. È una donna inquadrata, una donna di principi, una donna di legge, perché è un magistrato, lei è un giudice di pace, che si batte insieme ad un altro personaggio chiave di questa storia, che è Hélène, di cui ora vi parlerò, e che forse è il più importante alla fine di tutta la storia. Si batte insieme a quest'altro giudice di pace, Hélène, questo collega, per i diritti per aiutare le persone che hanno riscosso numerosi debiti col fisco, hanno richiesto prestiti e le banche li stanno assillando chiaramente per restituire questi prestiti e saldare questi debiti. Loro si occupano di questo, si battono per queste persone più deboli di fronte a queste situazioni, a questi, diciamo, pseudo-usurai che gli chiedono appunto di riavere indietro il denaro e a questo punto della storia Carrère passa da un inizio del romanzo che ha uno stile prettamente giornalistico, prettamente da reportage in cui si descriveva questo tsunami in un modo tale da essere all'interno dell'onda, noi stessi, passa quasi a uno stile saggistico in cui è strano a dirsi perché capisco la difficoltà, io non sono, non mi intendo di diritto, non mi intendo di legge, di giurisprudenza, completamente ma ci sarà una parte del romanzo, circa a metà, tutta dedicata a questo aspetto, molto dettagliata, molto precisa in cui verranno riportate intere citazioni, verranno riportate delle udienze, delle sentenze in cui sono partecipi in prima persona Juliet e il collega Etienne ma sono assolutamente fondamentali all'interno della storia, ogni parola inserita al punto giusto, al posto giusto e non risulteranno per niente pesanti nella scorrevolezza della narrazione. Io non ho avuto fatica, non ho fatto fatica, non ho avuto difficoltà, sono andata avanti nella storia, anzi vi dirò che la seconda parte è ancora più intensa della prima, dove appunto c'è Etienne, come vi dicevo, Etienne è un collega legato moltissimo a Juliet, legato non da sentimenti di amore, ma loro due si sono riconosciuti sin dall'inizio, quando sono diventati colleghi per la prima volta, entrambi hanno una sorte comune, sono stati colpiti entrambi dal cancro, però Etienne ne è uscito fuori, l'ha avuto anche lui da giovane, ma si è salvato, si è salvato e ha avuto un modo suo di affrontare la malattia e anche di interpretare questa malattia e questo cancro, che lui chiama la parte cancerosa della sua anima, ma che è sempre esistita, è stata lui. Questo aspetto, queste riflessioni che Etienne fa sulla malattia, sulla caducità della vita, sulla fragilità dell'essere umano e su come l'uomo possa accettare la realtà dei fatti, per quella che è, senza però subirla, ma esserne partecipe, è un aspetto che mi ha completamente cambiato il modo mio di pensare riguardo alla malattia in generale e riguardo alla morte, mi ha fatto fare delle riflessioni che sono molto difficili da esprimere in un video, da raccontarle in un video, ma vanno vissute, per questo io vi consiglio questa lettura, perché non si può non essere assolutamente modellati e plasmati dalle parole di quest'autore ed è una cosa rarissima, non mi era praticamente mai capitato e non potevo fare a meno di condividerlo con voi e invitarvi a leggere questo libro, a immergervi totalmente, affidarvi alle parole che inizialmente possono sembrare anche fastidiose, perché l'autore si pone in questo romanzo sì come parte principale, perché è chiaro che lui attraverso le storie di questi personaggi lui ragiona sulla sua esistenza e questo all'inizio può fare storcere il naso per il suo appunto imporsi nella storia, ma nello stesso tempo io mi sono immedesimata moltissimo, ho fatto lo stesso percorso insieme all'autore, però mio, personale, e l'ho trovato geniale, l'ho trovato assolutamente opportuno, appropriato e necessario. Sono parole che chiunque di noi nella vita, prima o poi, avrebbe bisogno di sentirsi dire, per questo ve lo consiglio, dovete assolutamente leggerlo. Il finale, la parte finale di questo libro è un finale assolutamente strappalacrime, è un finale, gli ultimi capitoli si stenta davvero a trattenere le lacrime, ma non sono parole, come dire, messe lì per suscitare volutamente una reazione, come dire, per accattivare il lettore, no. Sono parole sincere, si percepisce la realtà di quello che Carrersky scrive, sono emozioni vere, sincere, e quindi bisogna solo lasciarsi trasportare. Io ve lo consiglio, ve lo consiglio tantissimo, e sono mai, come in questo caso, curiosa di sapere quando lo affronterete, o se l'avete già affrontato, la vostra opinione. In assoluto, il romanzo più bello che io abbia mai letto finora nella mia vita, quindi, figuratevi, io ho sempre fatto video di recensioni singole, ma in questo caso, questo libro meritava uno spazio enorme, anzi, un video di appena 13 minuti, ma starei qui ore a parlarvene. Uno di quei libri che veramente mi viene voglia di uscire di casa e dire, leggilo, ne hai bisogno, perché ognuno di noi, ogni essere umano, ha bisogno di leggere queste parole, ne sono convinta. Con questo è tutto, spero di avervi trasmesso, perché ero inondata da, diciamo, questa sensazione, questo bisogno di condividere, ma nello stesso tempo, non so se sono riuscita a esprimere appieno quanto mi sia piaciuto, ci sono tante cose che avrei voluto dire, ma non è semplice. Io spero che lo leggerete, spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto qui sotto nei commenti. Intanto vi saluto, vi rimando al prossimo video e vi mando un grosso bacione. A presto, ciao!